Quello appena trascorso per i 375 operatori del call center for you di Palermo è stato un Natale, tutt'altro che sereno. Da novembre infatti non ricevono più lo stipendio e per questo da stamattina sono in sciopero con un presidio davanti alla sede dell'azienda a Palermo nella zona di via Ugo Lamalfa. È la seconda volta dall'inizio dell'anno che i lavoratori incrociano le braccia, lamentando soprattutto i ritardi nei pagamenti. Torniamo a protestare perché siamo in ritardo con gli stipendi da diversi mesi, da novembre. L'azienda proprio da novembre ha incominciato a utilizzare l'istituto della Cassa Integrazione e vediamo 130 lavoratori ogni mese che si alternano. Però malgrado questo istituto ci troviamo a protestare perché non arrivano gli stipendi. Le prospettive in questo momento non ne abbiamo perché l'azienda non ci comunica la possibilità di pagarci la restante parte dei nostri stipendi. Il problema fondamentale è che stiamo aspettando il secondo semestre del 2013 della solidarietà fatta nel 2013 appunto per pagare la restante parte degli stipendi. Intanto è già stata convocata per domani un'assemblea dei lavoratori già pronti a nuove proteste nel caso in cui non dovessero arrivare novità. La crisi insomma continua a colpire gli operatori della 4U ma investe tutti i lavoratori del settore delle telecomunicazioni siciliane, preoccupati dal fatto che le soluzioni finora adottate dalla Cassa Integrazione ai contratti di solidarietà siano soltanto temporanee e senza futuro.